Ma è una manifestazione che ricalcherà diciamo quello che è stato la storicità del festival, in senso questo festival per anni ha presentato due garrotelloni paralleli. La prima è una rassegna dove si andava a scovare le nuove proposte, le cosiddette tendenze dell'ultro giovanile. Dall'altra parte c'erano i grandi che hanno fatto la storia della musica pop rock nel mondo, è una manifestazione che è alla 21esima edizione che ha fatto la storia della musica in Umbra perché basta guardare i cartelloni precedenti sono venuti da noi i più importanti artisti del panorama internazionale. Quest'anno ne arriva un'altra soprattutto, questa grandissima icona che è Marianne Fetful che si integra perfettamente all'interno dell'elenco dei grandi artisti come Nick Cave, come Willie Deville, come Robert Wyatt, come Elvis Costelli, come David Byrne eccetera eccetera. E poi c'è tutto il settore legato, la novità è chiaramente che si ritorna in centro ad Umbertide, si va e si apre questo nuovo spazio che è il parco fluviale con le nuove tendenze, con i ragazzi, con le nuove band e anche per la prima volta i gruppi di Umbertide che inaugureranno il parco. Poi il club è sicuramente il concerto Marianne Fetful in questa meraviglia che fra poco verrà riconsegnata alla città di Perugia per cui ci sono tutti i presupposti per un evento importante. Per anni eravamo stati relegati in quel posto periferico in un anfiteatro di cemento caldo, ma francamente non bello. Io quest'anno ho voluto proprio ritornare nel centro storico di Umbertide e soprattutto con il fatto che la storica piazza che ha visto, che io la chiamo la piazza del sangue perché dopo i concerti nei Resch, Gesù e Mary Chain, è una piazza che veramente ha visto durante i Rock in Umbria degli anni passati suonare tantissimi star in quel momento là. Riviene aperta, riviene ristrutturato e c'è questo progetto meraviglioso che l'Umbra Insamba l'ha accolto di rileggere, rileggere, rileggere in maniera classica tutti gli artisti che sono venuti più importanti sui Rock in Umbria e questa per me è una cosa molto importante. Questa edizione tra l'altro si riafforza la collaborazione con il Comune di Perugia, un po' quando era partita Rock in Umbria era Umbertide e Perugia, oggi siamo di nuovo tornati su questa tratta insieme alla Regione dell'Umbria, un'occasione per valorizzare, qui ci troviamo a San Francesco al Prato, ma per valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale, qui si svolgerà il concerto di Perugia ad Umbertide, sulla piazza della Rocca, in piazza San Francesco e all'Ido Tevere, insomma è l'occasione per mettere buona musica, che è l'ingrediente fondamentale di Rock in Umbria, insieme al patrimonio storico e culturale delle nostre città. Un grazie particolare alla Regione che ha creduto in questo progetto e credo che è una collaborazione politico-istituzionale che fattiva tra Comune di Umbertide e Comune di Perugia, che vedrà realizzare in futuro anche ulteriori progetti. Sì, è un sodalizio che rafforziamo dentro ad una strategia complessiva che è l'investire nella cultura, nelle nostre risorse migliori che abbiamo dal punto di vista architettonico e ambientale. Rocca in Umbria, questa edizione è in grande stile per la qualità del programma artistico, per i luoghi che sono stati scelti. San Francesco al Prato per Perugia, ma come ha detto il sindaco di Umbertide, penso alla nuova piazza di San Francesco, all'Ido Tevere, insomma spazi fantastici, dunque le location che sono state scelte sono significative di una terra straordinaria che mette insieme cultura, ambiente, qualità architettonica, qualità culturale con l'innovazione della musica rock, delle conferme come la grande Marianne Faithful e delle nuove tendenze che sono state inserite all'interno del festival. Tutto questo è possibile con il sostegno della regione, con il sostegno di alcuni sponsor privati e sta dentro a quella strategia di mettere a pieno titolo le nostre città e l'intera Umbra dentro la dimensione europea e dunque a candidarla ad essere come regione una capitale europea della cultura.